E quanto godo! E quanto godo! Non potevo godere di più! Però adesso io sono curioso di sapere di una cosa prima di entrare in tutti i vari meriti, in tutti i vari discorsi. Stavolta i cori razzisti nei confronti di Vlauvić li hanno sentiti? Sto giro li hanno sentiti? Dopo che per due minuti tutta una curva l'ha cantato, stasera, stavolta, non stasera, stavolta, li hanno sentiti i cori, gli ispettori federali, dato che sempre tendono a tapparsi le orecchie quando c'è uno della Juventus di mezzo, stavolta li hanno sentiti? Stavolta ci sarà uno scontro mediatico tra social, giornali e televisioni che va avanti per tre giorni? Ci sarà? E dopo che? E dopo che? Vlauvić li ha buttato nel culo al novantasettesimo, dove ovviamente comunque nel dubbio nel primo tempo fischiamo 5-6 secondi prima perché per l'amor di Dio nel secondo ne diamo 5 di recupero però se arriva al novantasettesimo ne diamo altri due però al 97-30 con l'Atalanta che era di là si continuava perché sia mai ma ripartenza, gol di Vlauvić, tutto nel culo e godo, razzisti di merda per l'ennesima volta. E adesso nel momento in cui Vlauvić è stato ammonito gli verrà data la grazia, no? Gli verrà tolta l'ammunizione a questo punto. Tanto voglio dire, in un qualche modo in risposta ai cori razzisti ci hanno insegnato così. Sono curioso di vedere se adesso Gravina deciderà di intraprendere la linea del combattere il rassismo in tutti i modi e in un contesto come quello lì la grazia è doverosa se ti può permettere di giocare una semifinale di Coppa Italia e adesso devi dimostrare la stessa cosa anche per il campionato. Dato che a parole sono tutti bravi, sono tutti fenomeni, adesso voglio vedere cosa succede, adesso voglio vedere i risultati, adesso voglio vedere la pratica dopo che tutti quanti si fanno la bocca buona perché magari c'è un clamore mediatico esorbitante, adesso voglio vedere la stessa identica cosa. Detto questo, 2-0, godo, non me lo sarei mai aspettato, dico la verità anche perché l'Atalanta di base non la battevamo dal 2019, tra l'altro sempre a Bergamo, se non sbaglio, quindi voglio dire oltre alla finale di Coppa Italia, però dico in campionato, in tutti i confronti fatti, insomma l'Atalanta spesso e volentieri aveva dato dimostrazione di poterci battere o comunque di non farci vincere anche alle volte proprio con una discreta tranquillità, altre volte perché magari eravamo noi in primis a concedere con degli errori, dei gol che poi ci sono risultati fatali, decisivi. Sto giro fortunatamente no, sto giro fortunatamente non abbiamo regalato niente, siamo stati bravi a capitalizzare al meglio quelle non troppe occasioni che abbiamo avuto, anche se dopo lo 0-1 abbiamo avuto diverse volte la possibilità di sfruttare al meglio delle ripartenze, ma quasi mai ce l'abbiamo fatta, ma dico la verità, dopo tutto ciò che è successo negli ultimi minuti, sono sincero, non me ne frega un cazzo, l'Atalanta poteva probabilmente ottenere anche di più, beh probabilmente sì nel momento in cui ha preso due pali, però noi li prendiamo sempre, siamo, mi sembra che cos'è la prima squadra con più pali presi, traverse prese e quant'altro in stagione e ogni tanto ci può stare che il palo torni tutto bello nel culo agli altri una volta ogni tanto e godo, cioè c'è poco da fare, godo, godo in attesa delle lotte al potere nei confronti del rassismo, adesso sono molto curioso di vedere che cosa succederà, tra l'altro bellissimo anche Goldilin Junior, la prima da titolare dove comunque dico la verità, mi è piaciuto, alle volte sembrava un pochino no, impacciate quant'altro però ci mancherebbe altro, nel complesso ha fatto una partita mica banale, anche proprio l'azione del gol è partita, da un pallone recuperato di Ealing dove tra le altre cose si è ritirato subito su nonostante uno dei 3.000 falli di Zappacosta in questa partita e va benissimo così, va benissimo così, magari anche un pochino fortuloso però la fortuna aiuta gli audaci, ogni tanto quando raramente siamo audaci ci può stare che la fortuna ci possa aiutare, non ci può neanche sempre andare contro onestamente no, e infatti guarda lo pensavo anche, dico la verità, dopo lo 0 a 1 quando anche giustamente per l'amor di Dio l'Atalanta cercavano di andare in avanti per acciuffare il pareggio per poi magari provare a vincere, ho detto cazzo, qui veramente se entra uno come chiesa considerando tutti gli spazi che lasciano rischia che la puoi anche chiudere, l'abbiamo fatto al 98esimo ma l'abbiamo fatto esattamente in questo modo qui e mi sono piaciuti anche come poi sono entrati i vari chiesa, i vari Vlaovic che oggi doveva fare la guerra e l'ha fatta, devi rientrare, far la guerra, tenere il pallone, lo fai, oggi bravo Vlaovic e mi auguro che il carattere dimostrato soprattutto nel finale gli abbia dato definitivamente quello sblocco mentale dopo che poi aveva trovato il gol contro Lecce, l'ha trovato anche oggi entrambi tra le altre cose su azione e non da fermo che voglio dire, non è che sia proprio una banalità per la Juventus Football Club se mi permettete, mi è piaciuto anche Pogba che sta prendendo sempre più la forma del Pogba che più o meno eravamo abituati a vedere, quello lì era comunque un Pogba di cos'è sette anni fa quindi anagraficamente parlando è normale che le cose cambino nel corso degli anni soprattutto poi se nel mezzo hai avuto diversi infortuni anche abbastanza importanti però i soliti numeri, la solita qualità, la solita visione oggi a differenza anche della partita contro il Lecce dove probabilmente era l'unico neo che un pochino tutti hanno notato era quello del tiro verso la porta, magari alle volte la paura di tirare mentre oggi invece ha tirato una volta col destro, una volta col sinistro, due mesze ciofeche ma non si può neanche pretendere tutto quanto, cioè probabilmente no, almeno ha iniziato a tirare, ha iniziato a tirare e si spera che per la fine in un qualche modo possa migliorare la forza, migliorare la precisione, magari che possa migliorare anche il tabellino delle marcature stagionali, tutta questa roba qui in sostanza ma al di là di questo io soprattutto anche ieri disse una cosa, guai a metterci magari nella posizione di dover rimpiangere un qualcosa ai fini della classifica finale e meglio di così non poteva andare anche perché ieri la Roma ha perso, è vero, il Milan ha vinto contro la Lazio però ci può anche stare, nel senso ci mancherebbe altro, la Juventus in un campo difficile contro una squadra che non batteva in campionato da praticamente quattro anni, tre anni e mezzo in sostanza doveva provare a fare la partita, a portare a casa la partita più che fare la partita, a portare a casa la partita e l'hai fatto, tra l'altro si è tornato anche a vincere uno scontro diretto che non è che sia proprio una banalità coi tempi che corrono, no? E quindi bene, quindi bene e soprattutto poi per come è finita, quindi godo, godo all'esasperazione godo troppo, godo troppo, poi a voglia cantare serie B per l'amor di Dio, serie B, ma meglio in serie B che essere delle merde come voi.